fastidio non so se si sente dovrebbe arrivare il giardiniere e in più ci sono i treni io non so davvero cosa dirvi prova a facciarti e chiedi ma scusi mi tira la sega addosso grazie Mauro no la sega circolare Marco pericolo ragno terribile sulle notizie attento oddio morto Liezar come al solito ma adesso torna mi scillo questo è un treno adesso piano piano li sentiamo tutti ragazzi non tenete allora vabbè scrollalo un po' grazie tropper grazie tropper tuppate due volte grazie Michelo grazie Mauro grazie c'è lì lo vedo si è andato a guardarlo scusami no volevo capire quanto era grave la situazione ed effettivamente non lo guarderò più è sul segno no comunque affacciati e gli due robe ehi io dico così no a parte che non mi sente perché è dall'altra parte dove c'è la casa di là quindi devo urlare veramente forte oh così e basta capisci chiedi se possono abbassare il volume dei loro strumenti chiederò se hanno un mixer apposta per finito l'articolo del mess mergero non so cosa dice il record ieri abbiamo giocato un pochino ex defiant perché esattamente come avevamo preannunciato Franci ha dormito appena siamo andati nell'altra stanza e quindi vabbè gioco un'oretta e abbiamo iniziato a giocare ex defiant non so perché ci ha fatto così ridere abbiamo giocato col trenino Jimmy non so perché ci ha fatto così ridere però c'era il trenino Jimmy e ci ha creato ilarità che dobbiamo fare c'era anche provolino ma quello non ci ha creato ilarità il trenino Jimmy era proprio grazie Natsu grazie ho pensato a Tiziano con le nostre moto grazie Natsu il trenino Jimmy con la zugunerchi ecco infatti lo zugutreno appunto abbiamo pensato tutti a Tiziano c'erano bestemmie onward ma perché dovrebbe poi no non c'erano c'era qualche altro nome particolare ma non non lo ricordo più grazie Camjay grazie Camjay grazie Camjay no ma il fatto che a me fanno ridere i nomi idioti ho detto il nome per cui abbiamo riso di più io e Vector è stato patente scritto tutto piccolo perché sono quei nomi che cioè non è che devi fare il bestemmione per farmi ridere anzi lì mi fai cringiare è proprio patente scale a me queste cose mi fanno io ho una classe su Xdefinant che si chiama è veloce tipo per dire io ho questi nomi così mi fanno ridere patente ma evo evox hai detto ad evo ok adesso ho capito cioè ci sono arrivato con l'immagine con l'immagine che era a evo eh ma la comunicazione è fatta anche di questo sigla cosa cosa ho capito la sigla ho capito che lo facevo col microfono staccato ho capito si è aperto il sipario e sei visto questa merdazza mi sono mutato che devo fare indubbiamente però sei visto tutto eh vabbè eccoci a me via veramente un baccaio allora questo si andava in combo con la merda tua lì sesso e combo sesso e non c'entrava nulla no allora Regno Unito entrano nella proprietà di Sunak e defecano nel lago quattro arrestati hanno scritto anche it shit e non mi ricordo eri su Elder Ring eh vabbè ho fatto le nostre cosine ho una certa arrivo in un punto c'era un messaggio a terra no con i giocatori proprio nel nel precipizio c'era il messaggio vado a vedere per vedere magari c'era un segreto o qualcosa vado a vedere e il messaggio era e aspetta che questa l'aveva scritta da qualche parte la riprendo al diario per essere preciso nell'esattezza dov'è dovrebbe essere qui vicino c'era scritto per prima cosa accovacciati poi offri scrementi e c'era il tizio che si metteva a no e mi ha fatto molto il minutaggio è sì perché era nel diario era intanto o som o nuovo oraculo vogliamo per caso aggiungere qualcosa a questo momento di delirio sono raccontati nei racconti ma non raccontano la racconta boh questo proprio non me lo ricordo assolutamente questo proprio non me lo ricordo comunque abbiamo un'altra vittorio feltrata perché a quanto pare qualcuno dicendogli insomma che è un vecchio l'ha invitato a usare il pannolone e lui ha risposto non uso il pannolone da quando ti piscio in bocca questa è stata la sua risposta non vorrei ridere però eh vabbè però è difficile capito ragazzi è una giusta risposta non mi piace feltri però non mi piace feltri però che devo fare mi fa ridere questa va bene andiamo avanti velocemente che mi imbarazzo si sta sembra un treno che frena di continuo tra l'altro quello strontoli ti leggo io la prossima dai così un attimo ti riposi fa l'amore con una sconosciuta in aereo tiktoker lo filma e lo fa scoprire dalla moglie ha finito adesso di frenare comunque va bene era effettivamente un freno si ma non è possibile durato ma ti ho detto che siamo che i treni in italia fanno cagare ma penso stesse frelando ancora invece del lavoratore questo è quello col tra ti ho detto oggi metti caso che stamattina non avevamo la live e volevo riposarmi comunque io non potevo dormire cioè impossibile comunque fa l'amore appunto ma scusami ma non è una cosa al di là del discorso etico e disgustoso cioè non è anche molto illegale questa cosa qui cioè no vabbè in bagno tecnicamente anche al contrario comunque perché tecnicamente l'ha filmato senza suo consenso e no quello dice Marco tutto tutto quello che abbiamo visto ma non lo so ma secondo me sono finte comunque sì esatto non ci credo mai su tiktok vuol dire che è una cazzata ma poi con la ragazza che fa a parte che si vede cioè se una mi filma così nel silenzio dell'aereo si vede nelle affermità si vede tutto cioè grazie io ricordo più bello che ho dell'aereo comunque è quando ha vinto il Giappone e sull'aereo tutti hanno iniziato ad applaudire in volo perché il Giappone aveva vinto mi ricordo contro chi la semifinale che poi la finale tra l'altro si è giocata quando eravamo a vedere la Nami al parco a Ueno quindi siamo beccati sia i tifosi nell'aereo per la semifinale che per la finale va bene qua passano cose poi c'è il badge del The Ring su Twitch che è orribile più che altro lo devi per forza devi passare per forza sopra il mouse se no non lo capisci che roba è comunque l'influencer che ha creato un clone per parlare con i follower ho letto le chat sono terrorizzata grazie da Furion c'è scritto più che altro che ovviamente riguardando le chat che hanno avuto queste persone con la sua versione IA ha visto che c'erano delle robe terrificanti che chiedevano gli utenti grazie da Furion vabbè non mi aspetto ahimè altre cose visto che la gente è fuori di testa c'erano delle fantasie terribili sessuali delle cose pazzesche che non ripetono qui però immagino vabbè è una schifezza ma d'altronde l'umano lo è è proprio essere un bait certo incredibile soprattutto se quelli che scrivono magari hanno il nome cognome qui c'è scritto anche in Italia è stata lanciata Eva AI una versione virtuale di OnlyFans con modelle IA disposte a soddisfare qualsiasi fantasia si 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 con brucolia l'abbiamo provata scoprendo che pedopornografia necrofilia e zofilia sono argomenti che nessuno bloccava anzi eh no ma è terribile è una roba che veramente mi fa disgusto mi fa disgusto all'acchi per questi schifosi comunque poi da Nimarca arriva la tassa sulle frutulenze del bestiale ma molto tempo fa l'avevamo già letta sì ma è un po' che me la ricordo anch'io me la ricordo sì avevamo parlato sì vabbè per l'inquinamento eccetera ma me ne avevamo già parlato tanto ti chiuso quindi tassa sul culo cade sul bus e va all'ospedale a Rivoli esce e viene investito da un pullman dai ma cos'è un barzellè un trentenne se qualcosa può andare male andrà male la legge di Murphy si applica perfettamente al caso di un trentenne sudamericano eh buonascio però c'è scritto poi probabilmente ancora alterato dai fumi dell'alcol si è allontanato dalla sala visita ed è uscito sul piazzale dell'ospedale dove è stato travolto da un bus di retomaggio quindi era ubriaco comunque ok la sfiga ma ubriaco all'ospedale scusa no era già la prima allora e il primo investimento è stato perché era ubriaco probabilmente poi è andato in ospedale ma il primo è caduto sul bus cioè era dentro perché era ubriaco era ubriaco sempre mi sa sia la prima volta che la seconda cioè la seconda sicuramente sì ma è andato via subito dall'ospedale si vede che lui si è alzato quando l'hanno portato in ospedale ancora ubriaco è uscito nel piazzale è stato travolto dal bus perché era totalmente stonato è andato in ospedale eh ma può darsi che magari non l'hanno tenuto fermo è andato in giro cioè non è che lo legano alla fine questo quasi sarà alzato a fare tutto ubriaco ma se ha ubriaco l'ercio non lo so magari non l'avevano capito subito subito perché era stato comunque investito prima quindi hanno detto magari l'hanno semplicemente ricoverato come per il suo bisogno non l'hanno non credo l'abbiano ricoverato perché se no c'era scritto allora in realtà c'è scritto che era appena stato dimesso e uscito dall'ospedale quindi hanno accertato che stesse bene no era ubriaco era eh ma probabilmente non l'hanno visto ma come che cazzo di ospedale è che non vedi che non è ubriaco perché dice dice che l'hanno ricoverato perché era stato perché era stato male hanno si sono accertati che era un po' in pericolo di vita eccetera quindi come ha fatto uscire ubriaco dall'ospedale no no c'è scritto appena dimesso è uscito dall'ospedale ed è stato investito da un altro bus in quel momento era ubriaco ancora vabbè non è stato investito quando è uscito è un'ipotesi del giornalista c'è scritto che ricostruendo la cosa è uscito nel piazzale dell'ospedale c'è scritto che è uscito nel piazzale dell'ospedale e l'hanno trovato da bere in ospedale non penso ma qui questo è il fatto che è un'ipotesi del giornalista è una cagata non poteva essere ubriaco uscito dall'ospedale però scusami se l'hanno trovato è stato investito nel piazzale perché è arrivato per davvero sì vabbè è sfiga che sarà stato investito magari hanno controllato l'alito eccetera ed effettivamente sembrava ubriaco non lo so mi fa strano che dopo un ricovero esci dall'ospedale ubriaco che cazzo t'ha andato a me fa più che altro mi fa perché per essere ancora ubriaco vuol dire che è successo relativamente in poco tempo e mi fa strano che l'abbiano ricoverato accertato tutto e fatto uscire nel frattempo era ancora ubriaco ed è uscito fuori e farsi investire tutto stranissimo però è rafferito il giocchio da ubriaco ma poi l'hanno lasciato andare e si è risvegliato e ha fatto colazione in un bar boh a parte che è esatto frapsa cioè eh no ma per quello dicevo o è rimasto ubriaco per 10 ore no dipende se arrivi in ambulanza hai già il passaggio più o meno cioè passi davanti se arrivi in ambulanza ma poi comunque cioè in generale dico qui c'è scritto ricovero se ti ricoverano grazie gabrulo vuol dire che un pochino ci stai anche mezza giornata ma sì ma è tutto strano vabbè grazie grazie gabrulo qualcosa che non va c'è comunque proseguendo la notizia del ragnone lel apre la valigia dopo la vacanza in africa e trova un ospite terrificante cosa faccio l'uccido lo lascio libero una donna di los angeles vede uscire dallo suo bagaglio una tarantola dopo il viaggio in africa io ragazzi mi ammazzo dovrei chiamare qualcuno più che altro perché perché non lo so essendo alle 11 c'è una specie non del posto dove così c'è rischi anche che no mi sa che lo devi portare da qualcuno e decideranno loro dove mandarlo dovresti cercare un arachnologo che possa occuparsene anche per non c'è perché sennò vai a imbrattare anche gli ecosistemi non deve scappare in natura lì perché metti che una specie invasiva robe del genere si 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 va fatto va parlato si dice col tizio racnofobico l'hai detto prima il ragnofobico il dottore di ragno come si chiama eccolo si gli lascio le chiavi di casa io vado a fare tranquillamente a vivere sotto i ponti per sempre comunque dice purtroppo è morto poco dopo che l'abbiamo trovato ha scritto la donna però era rimasta nella valigia per oltre 40 ore è bene io non ci voglio andare in africa ho paura vabbè non sono lì sono le tarantula no infatti segnatemi nella cartina tutti i posti rossi non ci vado è ormai quello abbiamo fatto non lo so in giappone non dovremmo australia africa bottricello infatti ho visto di peggio per carità abbiamo combattuto con più e più serpi grazie sei molto gentile grazie mille molto molto gentile benvenuto nella community mi raccomando come al solito leggete le regole rispettate allora una citazione a Jujutsu Kaisen no questo è Tokyo Ghoul allora andiamo subitissimo oh tra l'altro tra poco esce l'anime di Kim Nikuman il prequel non mancheremo ma buongiorno amici come state ciao io voglio il manga di Kim Nikuman non esiste ma non lo porteranno mai hanno fatto anche petizioni non esiste neanche nel mondo non esiste no esiste infatti 600 serie solo che da noi non arriveranno mai in Giappone ho visto certe sberle che da raccomandosi non mi venivano no quello in Giappone ho mai visto non dovrebbe essere in Giappone magari qualcuno sia però è che pensavo fosse un un remake di Ultimate Muscle quella serie che deve uscire invece è del padre di Kid Muscle quindi ce ne sono un sacco di cioè se doveva vedere in Giappone la serie è piena di grazie Rosbus anche l'anime mica si trova nessuna parte di non ho mai guardato io l'avevo guardato ai tempi ma comunque il manga non lo porteranno mai ormai ci ho rinunciato magari adesso con la serie non porteranno mai la serie neanche in Italia quindi non lo dicevano anche anni fa sai tu tu non hai idea ogni lucca c'è gente che dice quest'anno è l'anno giusto ma è vero dei motivi ci sono che gli editori non dicono perché per esempio anche Toshokan che è una delle case editrici nuove che è uscita adesso gli avevano chiesto ma almeno voi ci riuscirete a prendere chimico ma allora avevano messo le moto degli occhi è passato un anno e mezzo nessuno sa niente quindi o l'hanno fatto così per dire ci proveremo ma non ce l'hanno fatta o non so cosa voleva dire quella cosa lì quindi boh vedremo prima o poi qualcuno ci riuscirà dai non è possibile mi pare che in Francia sono riusciti a prendere i diritti non vorrei dire una chiamenza ma ricordo una costina vera ma quello è tanto un altro mercato altra gente altra gente ieri sera guardavamo cosa cosa deve uscire tra poco pensa che Kinikuman è ancora in corso con 84 volumi in Giappone Kinikuman anche Kinikuman si poi c'è stato Ultimate Muscle che appunto era l'altro che quello si è concluso in 29 però ce ne sono stati un voto però la serie principale ha 84 volumi tu non hai idea di quante serie ci sono in Giappone in corso ed è il motivo perché a volte non le portano anche Coso Hajimeno Ippo io ho guardato l'anime è stupendo probabilmente piacerebbe un sacco con Italia solo che siamo al centesimo volume ed è in corso e quindi nessuno ha le palle di prenderlo avevano paura che non venda Vector ma assolutamente sì tra l'altro è un arco narrativo pazzesco da quello che so solo che c'è un uomo con i capelli che sembrano tipo tripofobici io non riesco a leggerlo purtroppo mi fa impressione Hajimeno Ippo ragazzi almeno l'anime è quello che c'è guardatelo perché è incredibile è fighissimo comunque questo robot che sorride non vi farà dormire la notte come è fatta la sua pelle artificiale vabbè sarà tipo quegli slime per i bambini quelli che fanno si muovono tutti è fatto di profilattico cos'è aspetta prima lo guardo poi allora a parte che questo robot che sorride ragazzi vabbè sai cos'è è è al volume 138 in Giappone ma Gimeno Ippo per dire comunque sai cos'è questa faccina hai presente i meme quando facevano la schiuma nei cappuccini e poi soffiavano per far dire su la tazza è quello lì è una merda perché mi fa dormire la notte è cazzo il suo è lui che non dorme la notte non io imbecille che schifo comunque Kaijuu Number 8 in Italia ha avuto un abbassamento di vendite perché è stato pubblicizzato moltissimo metro di Milano eccetera e poi alla fine era uno suone normale non è brutto io l'ho venduto perché non mi andava di spenderci soldi al mese ma non è assolutamente una brutta storia lo sto guardando Kaijuu Number 8 adesso devo uscire l'ultima puntata sto weekend è carino ma è carino facciamo delle risate perché sono delle robe veramente talmente banali però nel senso non è quella roba che la vedi che merda no non è una merda però come l'hanno spammato la gente credeva fosse chissà cosa in realtà è uno shonen basissimo proprio secondo me loro speravano fosse qualcosa di più però in realtà c'è un ragazzo che ha fatto mi pare quello di Anime T-Time il ragazzo di Anime T-Time è molto bravo non cito il nome perché non mi ricordo chiedo scusa forse Italo si chiama non mi ricordo ha fatto un video molto carino dove fa vedere che in realtà tutto ciò che è arrivato da noi di Kaijuu Number 8 al di là della metro di Milano di Milano tappezzata niente ti faceva pensare a qualcosa di diverso da un anime da uno shonen semplicissimo cioè semplicemente la gente si è auto-hypata perché vedevi Cartelone Vucchi ma in realtà è una cosa normalissima cioè Italo era ok ha fatto un bellissimo video secondo me ti fa vedere proprio semplicemente infatti lui ha detto io lo continuo a leggere cioè chi lo continua a leggere dice io lo leggo sapendo che sto leggendo una cosa comica per spegnere il cervello buonanotte più o meno comica beh è una cosa vabbè Carwucho insomma c'erano quelle scenette classiche da shonen non è comico per niente cioè le robe comiche sono quelle scene del cazzo che non c'entrano niente con il resto però non è comico sì vabbè però nel senso chiaro non è Sakamoto Days però c'era qualche scenetta semplicemente io l'ho venduto perché ho detto non ho voglia di spendere soldi mensilmente per questa cosa qui però non era brutto eh sì Sakamoto Days e che palesemente è l'allenatore vabbè ma non è così comico sì e no è comico chiaramente Spy Family è comico Sakamoto Days e cosa è Anzai di Slumdunk se tu cerchi Anzai e vedi che l'avevo detto è palesemente lui l'ispirazione a lui ma possono dire quello che vogliono cioè proprio Anzai bellissimo ma vedi che l'avevo detto ieri guardando il trailer ho detto ma questo ho detto questo qui che si è visto in altri cento anime mi hanno detto dove si è visto dove si è visto è uguale è Anzai e non ho mai letto Slumdunk per dirti però lo sapevo sì sì è proprio uguale 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 semplicemente lì l'hanno reso agile che spara vabbè certo è Anzai è palesemente Anzai anche Sakamoto Days l'ho interrotto ma è molto carino molto divertente da leggere poi se la gente si aspetta Monster non lo so però sono manga carini normali comunque proseguendo qua milionario si sottopone a una procedura estrema su un'isola remota per vivere per sempre e ce l'ha fatta ragazzi adesso immortale poi lo ripendo magari è immortale non credo adesso i roditori i topi trattati con la terapia genica hanno mostrato un aumento della longevità del 30% vabbè quindi viverà 20 anni in più 30 anni non è che 30 anni in più che però dovrà viverli rinchiuso da qualche parte probabilmente ma tra l'altro 20.000 dollari non è che tanto infatti non so no non potete andarli a sparare la notizia dopo vabbè i cybertrack continuano a dare problemi a testo vabbè non so cosa dire più che altro vabbè pace ciao mister la barista rubava dalla cassa almeno 150 euro ogni giorno tradita da 150 euro ogni giorno porca troia sì ma io non capisco allora io ok 150 euro ogni giorno sì però da quello che hanno fatto i calchi ce l'ha manco di 300.000 euro te ne accorgi un po' prima sì ma se sei un bar te ne accorgi ci hanno messo così tanto anche se è un bar figo te ne accorgi che roba perché 300.000 euro metti sempre a media di 150 sono 2000 giorni cioè sono 5 anni presumo te ne sarai accorto un attimo prima magari sta passentissimo metti 6 anni perché magari non lo facciano tutti i giorni cioè comunque dopo un anno che iniziano a mancare un po' di soldi te ne accorgi invece non se ne accorsero vabbè boh però voglio capire l'agile dallo scontrino cosa vuol dire dallo scontrino ah perché la guerra di finanza a un certo punto probabilmente magari in incognito così non ha battuto lo scontrino e quindi da lì hanno buttato la barista e poi da lì boh e l'avranno sgamata ce ne saranno accorti hanno fatto un po' di indagini ah ecco perché giustamente non batteva gli scontrini eh non batteva gli scontrini e quindi non risultavano in cassi il titolare ha detto scusa non batti gli scontrini quindi tutti i soldi che eh non risultano in cassi e come hanno trovato quelli vecchi però scusami se non c'è traccia no l'hanno dedotto poi probabilmente devi per forza dedurre perché comunque il materiale si consuma il materiale si consuma ah beh sì vai a materiale però cavolo in cinque anni ha voglia andare a capire quanto materiale ha usato cioè è difficilissimo fare una stima più o meno esatta eh sì effettivamente non batti che sono 50 caffè nella giornata sono già appunto 50 euro fatto così easy magari anche qualche brioche 150 a fine ci arriva ciao ciao bello l'avrà anche confessato roba del genere no poi hanno messo le telecamere l'hanno sgamata con le telecamere quindi alla fine abbiamo fatto vabbè come uno sciame di farfalle è riuscito ad attraversare l'oceano atlantico senza mai fermarsi ma più che altro non muoiono dopo un po' proprio per questioni di natura e muoiono dopo un po' le farfalle bisogna tracciare il volo di oltre 4.000 km dei lepidotteri a scoprire il motivo dell'impresa il viaggio è durato dai 5 agli 8 giorni ma non muoiono prima scusa forse questo tipo di farfalla no è possibile ma le farfalle le facevano 500 km al giorno eh forse spintano le correnti magari scusa mi sembra un po' spinti da qualche vento magari ah ecco vedi estremamente favoribile al vento l'hanno scritto loro ma capinchia però ma ripeto è che magari questa magari queste sopravvivono un po' di più campano moltissimo ecco come hanno fatto erano in aereo però si hanno preso letteralmente il turbo proprio un turbo erano regolarmente dall'Europa all'Africa subsahariana e durante i loro viaggi come lo hanno monitorato quello è interessante sarebbe interessante da capire come hanno visto che sono partite da lì e sono arrivate lì ma il perché migrazione cioè la migrazione la risposta del perché lo fanno perché lo fanno credo sia la migrazione c'è scritto sopra almeno quello lì non è l'azione cioè il perché migrano vabbè ma magari anche solo per i me per questioni di meteo c'è scritto contribuendo a fertilizzare polvere e sabbia anche nel deserto del Sahara eccetera va bene scoperto il vino più antico al mondo dopo 2000 anni e ancora il liquido nella città all'interno di una tomba romana nella città di Carmona in Spagna si tratta di vino bianco però sarà acetissimo sarà aceto sì l'han bevuto comunque hanno trovato sto sto vaso hanno detto che si tratta di vino bianco sì sì ok scoperto la roccia che ha permesso loro di rimanere in piedi per 2000 anni c'è scritto che risale al primo secolo dopo Cristo e a tutti gli effetti il più antico del mondo scappa Marco corri intanto c'è la misteriosa roccia bianca fotografata su Marte sì c'è in mezzo queste rocce nere ce n'è una bianca c'è anche una un po' rossa se per questo ma Perseverance ha immortalato una roccia bianca e cosa significa ragazzi miei hanno soprannominato la roccia a Tocco Point come la nota vetta sul Grand Canyon orientale immagino questi qui ha una roccia bianca allora questa si chiama Gennaro è grande così può indicare varie cose alta questa guarda sta pietra pazzesco raga robe così impazziti completamente in realtà è una cosa incredibile sì ne immagino e che da come è scritto qui sembra quasi una cazzata ho già lo saggio riuscirò a addormentarmi a non addormentarmi in ufficio oggi ma stubero più patate tre volte è già uscita questa è finito l'oracolo è appena descritto i geologi effettivamente e zarleccavate i sassi quando andavate in università no i professori sì mangiavano i sassi lo sapevo come the rock va bene i pescatori che hanno salvato 38 cani dall'annegamento dove li hanno pescati scusami grenada e mississippi senti in acqua mentre inseguivano un cervo erano coglioni questi 38 cani poi poi il cervo lo ha lasciato un orino può ma poi 38 cani a inseguire stu cazzo di cervo era tantissimi vabbè intanto direi che possiamo passare le notizie video lulle c'è una notizia in realtà incredibile più o meno però l'ho letta ieri ma mi sa che su multiplayer non c'è quindi non so se era vera o era un'ipotesi o una burla però su multiplayer non c'è quindi che roba e aspetta faccio un attimo di verifica perché avevo letto una notizia intanto ieri era stato c'è stata uscita anche un'altra patch di ades 2 ma non è ancora un aggiornamento un major updates quindi vedremo poi vediamo cosa c'è pensa che era un articolo vecchio che ho sbagliato a leggere l'ho letto come se fosse che roba era è una cosa su days goal ieri ha messo nel gruppo no ma poi era andato che a verificare ma in realtà non c'è nessuna notizia del genere ma quello di coso che sarà una confermata una serie di tre ma no perché se è stato cancellato no e doveva essere una trilogia ma non è che parlava di film ma non so poi mi fa ancora più strano eh ma perché era c'era coso dietro l'attore come cazzo si chiama perché non l'ho aperta poi la notizia ma ho visto solo qualcuno che l'aveva messa su telegram nel gruppo però vabbè intanto a proposito di serie robe adattamenti di giochi si ma se cerchi dicono che doveva essere una trilogia non che sarà una trilogia anche perché sony è sempre stata chiara che non ci sarà un nuovo gioco quindi vabbè ma sony cambia idea alla svelta eh ma sarebbe non peggio su multiplay non c'è proprio nessuna notizia quindi beh se non è ufficiale trovo vabbè ma figurati su multiplay non ci fa sette articoli anche su una cosa non ufficiale no no è vero partendo dalla vostra pagina affiliato di amazon conta lo stesso l'acquisto sì teoricamente sì 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 se no semplicemente apri la stessa pagina iniziale di amazon col nostro shop aprile più volte e parti da lì ma no no sarà la prima volta poi se sì teoricamente sarà la prima volta parti da lì poi nei cookies si memorizza un attimo il il refer teoricamente parti sempre lì se non sei sicuro in caso poi riapri di nuovo amazon partendo sempre dallo shop vai di avanti così anche se ce l'hai nel carrello già però dei sgon mentre elder ring diventerà una serie tv o un film miazaki di from software dice che c'è interesse come lo fai un film di elder e beh puoi fare sugli eventi accaduti in realtà non lo so ciao gaia ma da parte di chi c'è interesse di from software o di qualcuno non vedo alcun motivo per negare un'altra interpretazione adattamento del del ring ad esempio un film nel senso dicendo cioè non si tirerebbe indietro meccino sempre di no però comunque acquistate lo stesso dal nostro link tanto che cambia poco ma i film di un souls non lo so sarebbe difficile il del ring sarebbe molto fattibile in realtà un un adattamento cioè non è che fai cioè non sarebbe una serie tv su gli eventi nel gioco cioè con il senza luce che diventa lord ancestrale ma sarebbe molto probabilmente del prima di tutti gli avvenimenti venuti prima e robe così le battaglie quelle cose lì bla 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 intanto steam lancia game recording intanto in beta chiaramente e sarà il la funzione funzionalità di steam per registrare e anche i replay e tutte quelle cose lì quindi effettivamente mancava che sarà anche compatibile integrata con steam deck tocca vedere quanto influirà sul frame rate perché su pc non credo ci sia un problema ormai le schede video gli hardware di oggi hanno tutti una parte dedicata a queste cose qui però ecco qua però su steam deck magari che lì è un po' più tesoso di risorse non lo so mi è arrivata questa carta che l'ho presa tre settimane fa è un chopper disegnato a mano e c'ha una foilatura che non si vede ma è tutto zigrinato ti fate conto che l'ho pagato tipo 6 euro questo è disegnato a mano perché gli altri li sono disegnati questo l'ha fatto proprio un artista è un tratto tipo come se fosse un disegno non si vede molto ma è come se fosse proprio disegno a matita e c'ha tutta la foilatura zigrinata che però non si nota da qui io l'ho pagato 6 euro il tempo che mi è arrivato ci hanno messo una vita adesso costa già 20 15-20 vabbè poco 6 euro si se andate a cercare ovunque costa adesso costa 15 comunque dai 10 in su almeno però ci ha messo due settimane e più per arrivare non capisco taci de pippo mattinata fresca qui a Roma da voi come se sta dagli a Roma non fa niente per non rendersi romano proprio in nessun modo comunque tutto dai fuori fa caldo adesso sono uscito fa caldo dentro si sta un po' meglio però c'è tutta linea tanto Marco sai dirmi cosa hanno in comune il chitarrista dei Nine Inch Nails Sam Barlow e il figlio di Cronenberg sono dei figli d'arte no hanno un'innata passione per il cinema e il mondo dei videogiochi ah 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 dimmi un po' dimmi di più Mauro per favore credo semplicemente sia è un articolo in realtà sui giochi della Blue Mouse che hanno presentato a Summer Game Fest però mi faceva ridere un pochino il titolo eh cosa c'è cosa c'è cosa c'è cosa c'è cosa c'è cosa avete letto già io non so cosa avete letto sempre tutte quasi su Elder Ring come al solito Infor Games ha comprato Sergeant Simulator da Tiny Build chissà se il 2 è diventato mai giocabile dovremmo riprovarlo una volta giusto per capire se possiamo vivere giocandoci oppure no perché era divertente di per sé era ingiocabile però era eh si laggava molto era molto divertente però intanto qua io ho un po' di notizie di Luke ce l'ho se volete vi leggo quelle intanto l'ex produttore di Dragon Age spiega perché The Veilgard e GTA 6 hanno richiesto così tanti anni di sviluppo è la cosa c'è sì però GTA 6 perché doveva lavorare molto The Veilgard perché ha avuto più di mille problemi cioè te lo spiego io perché fa vedere uno dei motivi per cui i giochi tripla impiegano così tanto tempo in alcuni casi semplicemente perché possono permetterselo rivela Darra guardando al mercato guardando a ciò che devono fare decidono che è più importante produrre un gioco di grandissimo impatto che pubblicare qualcosa più rapidamente è proprio il contrario di quello che succede nell'industria dei giochi tripla pensa un po' che cazzata ha detto questo qui possono permetterlo può permetterselo GTA e basta esatto eh sì e di Elder Scrolls che sotto c'è anche citato Elder Scrolls anche quello ma The Veilgard non è il motivo per cui ci ha messo e ci sta mettendo così tanto vabbè era una cazzata già dal parallelismo che ha fatto all'inizio quindi vabbè vediamo un po' indovinate chi guida la classifica dei giochi di maggior successo di maggio per utenti e incassi è il Divers perché? no non lo so non lo so ho detto la prima cosa che mi è venuta in mente è Fortnite Marco chiaramente ecco qui mi aspettavo un twist invece no Fortnite poi c'è Call of Duty poi c'è Minecraft poi c'è Roblox GTA 5 e sesto X Defiant certamente posso giocare Roblox mi sa ragazzi non lo so tanto oggi c'è la patch di Fortnite di Roblox pensavo poi informato eh infatti c'è già la patch di Fortnite un giga vabbè ha messo la nuova modalità di Fortnite che in realtà non è male è la stessa identica di COD cioè il deathmatch praticamente risponi dopo 30 secondi risponi se muori finché non muori tutta la squadra se muori tutta la squadra non risponi più non è malaccio ma sempre batte il Royale sì sempre si restringe però è così ieri abbiamo giocato al deathmatch io Vector l'hanno messo su X Defiant l'hanno messo? sì 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 anche Ram a mezzo avrà una nuova serie animata sì 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 l'hanno detto ovunque sì l'hanno detto più volto ah sì? vabbè ci sta dai ne aveva bisogno sì sì l'avevamo anche detto ne aveva bisogno beh va benissimo va bene Marco hai visto il trailer di Batman Supreme? sì sono molto contento mi pare che cos'è primo agosto era scritto alla fine del trailer mi pare comunque lo vedo volentieri non mi basta vedi Luke si ha messo qualcos'altro sì allora abbiamo 2K se ripeto qualcosa avete detto quando non ce l'ho ditemi 2KKO no scusate 2XKO ha annunciato il primo test pubblico del picchiaduro di League of Legends gli sviluppatori di Radiant Entertainment hanno svelato l'arrivo di un primo test pubblico dedicato a bla 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 permettente picchiaduro 2D basato sull'universo di League of Legends cosa? è stato annunciato 5-6 anni fa non me lo ricordavo neanche era insieme a tutti quegli quando ha annunciato tutti gli 8 giochi sì è vero però vabbè ma non ci va bene un po' la cagata Steam ha ora una funzione di registrazione anche su deck provatela in beta sì quello l'abbiamo sì vabbè Marvel Rivals su PC PS5 e Xbox al via le iscrizioni per la closet beta di luglio poi abbiamo Emma Roberts aveva paura di diventare famosa a causa di sua zia Julia Roberts eh vabbè Dead Rising Deluxe Remastered in realtà l'Odissea Zombie di Frank West riparte in video a proposito di Zombie se è multiplayer però mi pare questo mese comunque tra poco partono i saldi di Saldapress tra cui c'è anche The Walking Dead quindi se non l'avete mai letto insomma è tanta roba io non ho mai avuto una versione cartonata solo che costa tutto costa parecchio quindi prima o poi la prenderò posso andare bene un Dead Rising oggi cioè beh se è multiplayer vediamo è divertente Dead Rising no ma anche in generale è un gioco da giocare con gli amici questo magari con gli amici cioè io e Davide ci eravamo divertiti anche io e Karim solo che non lo fai un sacco di tempo fa sì vabbè diciamo che se lo rendi un po' più attuale magari con qualche dinamica secondo me ci si può divertire quindi tanto sarà lo solito secondo me ci si può divertire ancora su Dead Rising chiaramente devi sapere cosa stai giocando non è che ti devi aspettare chissà cosa ti diverti sì c'era il tempo esatto speriamo che tolgano oddio il tempo è vero che schifo sarà un remake quindi lasciano aperto cioè fai quel cavolo che vuoi ma c'era forse una modalità in cui potevi fare quello che volevi senza tempo mi pare di ricordarla l'avevo fatta con Karim comunque vabbè Harry Potter svelati regista e sceneggiatrice della serie entrambi vengono da Succession Succession che poi alla fine sì no intanto non devi inventare trama perché tanto la trama c'è già quindi è anche forse un po' più facile il lavoro però perché hanno detto che vogliono essere fedeli ai libri quindi tecnicamente la trama è già scritta quella è vedremo devi comunque dargli un'impronta no è vero però però comunque la trama c'è già non possono cioè non devono fare poi abbiamo serie Harry Potter su HBO importanti novità per il reboot della saga su piccolo schermo Max non sarà il contenitore di serie tv ad alto budget la riconferma arriva direttamente da Warner Bros Discovery cambio di strategia all'orizzonte per quanto riguarda bla 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 ebbene sì il reboot della serie reboot su Harry Potter passeranno su HBO quindi non su Max ma su HBO Max è HBO non è HBO scusa non è HBO Max non è la piattaforma tipo Netflix di HBO però è quella quella per le serie pem 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 invece la mettono su HBO quindi tecnicamente c'è due piattaforme ma non so cosa vuol dire una per le serie belle una per le serie a prescindere tanti tanti erano hanno divisioni va bene però mi immagino come sarà poi cioè perché questo è una cosa pesante allora se la legisci così capisci che ha meno budget però non so se prendono quello no ma non credo che abbia poco budget comunque stavo pensando in un futuro anche pensate ai parchi divertimenti perché adesso sono tutti basati su come adesso tipo Diagonale Hogwarts e roba del genere se poi cambia ma secondo me non cambiano cosa faranno oggi cioè non cambiano i posti più di tanto eh ma non puoi neanche fare l'identice a quelli dei film perché no mi sembra un po' una cagare perché non puoi farlo il fatto è che se li fai identici a quelli dei film ti aspetti poi che ci siano anche gli stessi attori cioè non avrebbe sì allora perché lo stai facendo però se lo fai in un'altra cosa temporale magari c'è un'altra persona che in quel no che cosa temporale no questa sarà la serie basata uno a uno sui libri ma poi magari non c'è Diagonale cioè non te la fanno vedere no Gianluca quelli dei parchi sono identici e no magari cercano di ambientarla in altre cioè no a parte vabbè Hogwarts e queste cose qua magari cercano saranno i rebuti dei film è la storia dei libri adesso e ci sarà quello che c'è nei film non è che lo puoi fare da un altro ma tanto se rebuti rebuti tutto quindi io e però il fatto è che se cambi il castello cioè poi nel parco diventimenti cosa fai ma non cambia l'estetica cambia un pochino l'estetica però ma secondo me allora cambieranno Diagonale che è quella che è iconica è quella smetti che la cambi poi cosa succede ma non la cambiano secondo me non la cambiano cioè Diagonale non la cambiano ma non credo che ci saranno il castello non la cambi non so se ci sono perché adesso li rifai il set è un parco divertimento adesso è il parco divertimenti sono gli studi la Londra lo rifai o registri dove c'hai già un cioè non puoi rifare quelle cose lì secondo me non ha senso dai per me sarebbe un'idea delle palle poi magari lo fanno per me è un'idea delle palle sì ogni parco deciderà se adattarsi alla serie o rimanere a fare dei libri sì ma rifarlo in digitale è un rischio ragazzi non lo so io dico che su me li rifanno uguali almeno queste cose qua Castello Diagonale oppure creano dei parchi nuovi fanno gli studi adesso sono basati sui film non lo so non lo so dei parchi eccetera per una serie che magari non è detto neanche che vada bene non lo fanno sicuramente subito non lo fanno no ovvio ma secondo me rifanno a livello di estetica dei posti che sono uguali cambieranno io non lo so però lasciarlo così proprio uguale non può la cagato lo spero sinceramente lo spero che rimangano uguali come se rifai Il Signore degli Anelli ma lo rifai in Italia con cose diverse cioè per parte che quello del Signore degli Anelli è natura in realtà più che altro dovresti cambiare delle cose diverse però vabbè un esempio sbagliato però comunque se mi rifai in Astirit invece di farmi l'incastonata alla roccia così a como me la fai in un altro modo tonda cioè non puoi fare queste cose qua sono cose che non puoi toccare se mi fai Aragorn invece di essere il ramingo è il forestale per dire aragne andiamo andiamo avanti dai con l'almanacca allora 1905 al lago di Odessa i marinai russi a bordo della corazzata Potemkin si ammutinano per protestare contro le caretti condizioni igieniche e alimentari cosa? è quella del film più o meno è scritto così è un po' storpiata quella di perché volevo dirlo però è scritta completamente diverso è un po' storpiata quella di Fantozzi però si riferisce a quello ah sì perché è Potemkin non pensavo fosse Potemkin non pensavo fosse la quella è quella con la cui si riferisce 1954 nella città russa di cosa si va di russi Obninsk entra in funzione alla prima centrale nucleare al mondo in realtà la conosco però faccio fatica a leggere 1967 alla Barclays Bank nella zona nord di Londra entra in funzione alla prima cash machine europea ho pensato subito a cash machine va bene 1980 oltre 100.000 persone assistono al concerto di Bob Marley a San Siro nel pomeriggio aprono l'evento Roberto Ciotti e Pino Daniele si tratta della prima volta che lo stadio Giuseppe Meazza viene aperto a un concerto musicale 2003 viene introdotta nel codice la strada nel codice la strada la norma perché ho sbagliato a scrivere qualcosina per la patente di guida a punti entrerà in vigore dal primo luglio 2008 dopo 33 anni alla guida di Microsoft Bill Gates si dimette da ogni carica per dedicarsi alla sua fondazione benefica i nati oggi sono nel 1859 Mildred Hill insegnante coautrice con la sorella Patty della canzone Tanti auguri a te nel 1927 Cino Tortorella conduttore tv anche noto come Mago Zurli 97 anni avrebbe fatto oggi morto nel 2017 nel 1966 JJ Abrams che fa 58 anni produttore di Alias Lost ecc 1974 Fabio Biggio Fabrizio scusate Biggio che è quello dei soliti idioti che fa 50 anni e Tobey Maguire che ne fa 49 è del 75 grande attore Proverbio del 27 giugno 2024 occhio non vede cuore non duole le giornate internazionali non ne sono giornata nazionale del bingo giornata nazionale degli occhiali da sole giornata nazionale del lavorare da casa giornata del decidersi a sposarsi nel senso di fare la proposta giornata nazionale giornata nazionale della stretta di mano giornata nazionale delle cipolle ancora cipolle e la curiosità di oggi è che una ricerca dice che mantenere le gengive sane previene l'irrigidimento dei vasi sanguigni e ciò previene anche i problemi di memoria pazzesco penso un po' che lavoro vuoi fare anche la cazzata di come si chiama la segna buba è importantissima rispetto allora abbiamo Maria De Filippi che è in Sardegna tra sport cani e temptation che c'è anche temptation poi abbiamo Mara Carfagna si sposa con Alessandro Ruben a Sorrento poi abbiamo Isabel non era Isabel 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 vabbè non mi ricordo Isabel la figlia minore di Francesco Totti e Lariblasi suona il piano con Ultimo c'è un video di loro due che suonano il piano e Totti no 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 questo non è Flavia Vento è Anna Falchi scusami vero Anna Falchi ha semplicemente una volta ha semplicemente consigliato di essere tutti antisemiti sbagliando però ovviamente disse in diretta tv dobbiamo essere tutti antisemiti e la gente impanicata no non siamo antisemiti Anna ha sbagliato tutto e ha fatto questo piccolo errore no Anna non siamo antisemiti sentiva dietro il giornalista per l'amor di Dio zitta poi abbiamo di rispettare l'omofobia esatto Totti in conferenza io rispetto l'omofobia come no va beh diciamone un'altra che mi fa sempre ridere anche Cassano che invece con intento omofobo disse se penso quello che dico parlando dei gay se penso quello che dico disse in conferenza un ignorante abbiamo poi Alessia Marcuzzi in vacanza in segreto con l'ex marito c'è uscita una foto dove sembrano essere nello stesso luogo poi abbiamo E mi schilla papà bis ecco il nuovo arrivato si chiama Wenteo ma non lo so come si chiama Romeo Romeo e poi abbiamo i due momenti a Marcord prima abbiamo Francesco Baccini e i ladri di biciclette si esibiscono a voto alla voce del 90 e poi abbiamo sempre Zeligoff ormai sono fissati gli operai Bove e Limardi e il ponte sullo stretto di Messina ma dai incredibile una battuta e uno scherzo sul ponte di Messina era il 2010 e ancora oggi li fanno pensa un po' andiamo in Mona si può dire no al guest the game aspetta eccoci sacred apparecimenti non blind questo deve essere un qualsiasi gdr degli anni degli anni 2000 dove cazzo è sacred non c'è lisa sacred blaze sacred fire sacred 2 o sacred 3 saranno 2 il 2 no non è sacred è baldur's gaze dice può essere sì il 2 no è l'1 l'1 è sempre dall'1 pensavo fosse troppo nuovo per essere l'1 ma è che il 2 non è che si discosta troppo dall'1 in realtà era della bioware il primo baldur's ma no ancora la bioware era ancora decente ciao lina l'inchia si era decente bioware no infatti era ancora decente adesso non lo è più no va bene va bene dai 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 che sto salendo a livello bello veloce dove è corn si è tutto zombie che sbrodolava e questo è minecraft no no corn è minecraft si si hai chiamato un cane corn però il cane che mi stavi uccidendo ho preso un cane corn vieni qua è morto corn ma sei un coglione scusami e si è incastrato sotto il pontile ma basta minecraft nel 2022 l'avevamo fatto a luglio ok a 152 ore abbiamo fatto fare spoiler ovviamente quando comincia la serie estiva eh mo vediamo mi ricordo sugli altri tanto te li avevo menati li avevo menati io gli altri ok pocket le dai kangaskhan non può essere kangaskhan prima o poi lo sarà su 151 prima o poi sarà ieri però ci ha dato un po' di indizi tutto l'urk eh io dico vaporeon no perché beh può essere in realtà lo sapevate che vaporeon pesa più di 80 kg quindi aspetta restringe molto la cosa pesa più di 80 kg ed è più basso devi mettere 20 così pesanti ed è seconda fase evolutiva no sto zitto sto zitto grazie Umberto è seconda fase evolutiva golem no golem è la terza comunque è grave ma infatti è terza comunque no è terza è terza non c'è scritto però non è golem è sopra la prima quindi montagna terza evoluzione non è di tipo roccia e terra quindi no però l'ambiente è montagna a parte che dove è grigio golem perdonatemi è anche grigio golem ma no è marrone è ocra verde anche addirittura grigio è la roccia no la roccia è anche ma ma c'è ma ma c'è un po' si trovava effettivamente lì no non è l'infa ma c'è un peso è giusto montagna però non pensavo si trovasse in montagna sinceramente ma c'è un peso 130 kg chi è che ha tre evoluzioni ma è montano poi montano con tre evoluzioni chi è? non mi sta venendo non mi sta venendo lo so ma non c'è più niente ma poi non è di montagna Dragonite minchia penso di sì beh Dragonite credo sia montagna no no è di tipo volante ed è arancione è ma nido è 210 kg forse Fero no Fero è due non c'entra niente è volante è volante cos'è che ne ha tre evoluzioni sarà Pigeot magari pesa più di 80 kg ma arancione ragazzi Charizard ma montagna è Charizard è montagna ma mi ha andato completamente fuori strada a me montagna beh effettivamente dove lo metti come abito no tecnicamente tra l'altro lui aveva anche nell'anime lui c'era nelle cose nella valle quindi in mezzo alle montagne vabbè si Drowsy che brutta sta carta è inquietante cioè brutta nel senso che è inquietante il suo DNA è quasi uguale a quello di Mew ciò nonostante sono a un tipo di perdimensione e carattere vabbè chi vuoi che sarà Ziluette Koffing o Easy Koffing Koffing io dico Koffing gronde dai magari tra un po' tra un po' allarghiamo anche la seconda generazione dai tra un po' facciamo il lord no no però allarghiamo la seconda generazione che tanto quella vero o male si conosce vabbè adesso ancora un po' non sono ucciti mica tutti no no però è giusto per avere un po' più di varietà dai ha schioccato tutto allora Moro ma quindi sei a metà forse un pochino più in là della metà ma sì esatto fino alla terza anche io posso ancora giocare fino alla terza generazione poi basta e io qualche nome adesso lo sì no anche io con le carte le sto imparando no ma anche perché mi sono guardato qualche video poi iniziano ad essere anche tanti se metti tutte le generazioni è difficile capire grazie che odore che mi arriva dalla cucina ho fame vabbè close the the rust con noi ci vediamo stasera con little company l'altro è uscito oggi è uscito coso rumble crash come si chiama battle crash che è quel giochino lì che c'ho ieri quel tipo di smash ah ok sì beh da provare ma è free ma penso proprio di sì dai speriamo speriamo mi si chiama battle crash quello lì forse cioè se si possono fare le cose insieme le review sono nella media attenzione perfetto tra le censure nella media vedremo magari da provare sconsigliato è scritto in giapponese eh come lo capisco non c'è un traduttore sul sim no una recensione sono un uomo semplice ha il sino oce server i no recommend cos'è oce 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 sono tutte gli asiatici mettono tutte le recensioni negative madonna che disastro quelle occidentali invece sono tutte positive quindi vabbè non so vedremo si battle crash si chiama boh tanto c'è una wave spagnola è nato comunque amici ci vediamo questa sera con esprit se si ricorda se si ricorda chiudiamo si letal company no quello che hanno fatto ieri carimegatto sarebbe da provare effettivamente che sembra appunto l'italcom venire sott'acqua vedremo poi magari d'acqua avanti va bene va bene va bene va bene dai ciao 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 belli buona live ve pozzi ve pozzi anzi ecco qua boh chat oggi eh oggi ho un po' di ranteghino alla gola tocca dare assolutamente prima di ogni cosa la sigla